A poche ore dalla massiccia adesione al corteo di Libera che ieri sera a Foggia ha portato quasi 10.000 persone in piazza contro le mafie, un ennesimo attentato di Namitardo è stato compiuto nella provincia. Sconosciuti hanno fatto esplodere una bomba all'alba davanti al negozio di biancheria intima che si trova in corso Aldomoro a Orta Nova, a pochi chilometri dal capoluogo Dauno. La deflagrazione ha provocato molti danni all'attività commerciale, diventa la saracinesca, distrutta l'insegna, infrantumi, vetrine e parte degli arredi urbani. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza. La titolare del negozio, la 38enne Marianna Borea, è la sorella del presidente del consiglio comunale di Orta Nova, Paolo Borea, al quale è stata incendiata l'auto il mese scorso. La titolare del negozio ha riferito di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Secondo quanto accertato finora, per realizzare l'ordigno è stato usato lo stesso esplosivo per gli assalti ai Bancomat con la cosiddetta tecnica della marmotta.